Seguiremo con grandissima attenzione e presenza a tutto il tema della riforma della giustizia pongolando il governo ad arrivare in tempi rapidi con una proposta organica perché è quella che finora è arrivata, con massimo rispetto del ministro Nordio di cui noi ovviamente apprezziamo il lavoro, però riguarda solo l'abuso d'ufficio e poco altro mentre noi abbiamo, come dire, la necessità di una riforma complessiva su separazione delle carriere uso distorto delle intercettazioni, correnti in magistratura vediamo se questo governo si dimostrerà garantista oppure no noi abbiamo qualche dubbio, visto che vanno a rallentatore e continuano a nanguare le proposte però vediamo